Saba ringrazia per aver scelto un nostro prodotto. Il modello da lei acquistato è un prodotto in piuma che necessita di alcuni particolari accorgimenti. Per un buon mantenimento del prodotto le parti in piuma devono essere risistemate con una certa frequenza in modo che i cuscini riacquistino forma e che la puma si ridistribuisca in maniera uniforme. Per fare ciò vi suggeriamo, se il modello lo permette, di alternare la posizione dei cuscini di seduta e di schiena e di batterli manualmente con energia. Per battere i cuscini si intende lo scuotimento del manufatto in tutti i suoi lati o piani di appoggio, come si evidenzia nel video. Consigliamo di effettuare l'operazione sollevando i cuscini dalla struttura in modo da consentire una migliore circolazione dell'aria. Saba infine vuole evidenziare che nel tempo una leggera fuoriuscita di piume dalle imbottiture è una cosa normale e non è da considerare un'anomalia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!